e non è un po' di parlare di un personaggio come Led Belly o Addi Ledbetter. se ne andò il 6 dicembre del 49 al New York Hospital ma la sua vita è stata veramente dura lunga ed importante già di per sé quando si parla della nascita dei Red Belly un po' fa pensare questa cosa perché nato intorno a Morning Spot intorno al 1882 perché questo capitava perché era una persona di colore le persone di colore non avevano tutta questa importanza già dal punto di vista anagrafico, quindi immaginate poi per quello che verrà poi in seguito quindi già di per sé era una fortuna sapere l'anno di nascita a quei tempi per le popolazioni nere negli Stati Uniti lui è stato fondamentale perché innanzitutto è stato un personaggio che ha assorbito quella che era la cultura dei bluesman e dei folk singer già dall'inizio degli anni 20 lui fu una delle poche persone che riuscì a intraprendere un lungo viaggio che lo portò insieme ad altri bluesman in tutto il sud degli States e Blind Lemon Jefferson che era uno dei più importanti bluesman dei primi anni del secolo scorso fu proprio portato in giro proprio da lui nei treni a piedi nei vagabondaggi che facevano questi bluesman che era chiaramente un lavoro di fortuna perché non si poteva fare altro che mendicare sperare di poter suonare in qualche bar per avere qualcosa da bere e magari portarsi a casa qualche soldino lui spesso e volentieri let belli oltre all'esperienza importante con Blind Lemon Jefferson al quale dedicò anche una canzone in cui lui parla di questo uomo dicendo oh baby he's a blind man è un uomo cieco però dice una cosa importante he's American è americano comunque dovete rispettarlo perché lui è di colore è un bluesman ha girato per il sud ed è un americano come tutti voi da queste parole si capiscono proprio dalla canzone Blind Lemon di Let Belli si capisce proprio l'importanza di questi afroamericani in ambito di appartenenza sociale culturale agli Stati Uniti lui erano americani per prima cosa lui ebbe nonostante che si professasse giustamente perché lì era nato americano a tutti gli effetti e voleva gli stessi diritti degli altri americani o statunitensi se utilizziamo il termine giusto perché americano è un po' generico potrebbe riguardare anche il sud dell'America lo statunitense in questione voleva diritti e cantava quelli che sono i problemi legati al potere alla presenza di questo stato che chiaramente per loro era a volte un po' dubbiosa quindi vedete anche queste dicotomie interne non solo di Let Belli ma di tanti altri bluesman e di tanti altri folk singer per esempio su Meeting Hatch Building lì si capisce molto il discorso proprio legato al potere al palazzo del potere dove c'è un incontro dove si decidono cose importanti per tutti e qualcuno può anche non votare perché magari non ne ha il diritto tante volte fu arrestato dalla polizia ingiustamente tante volte fu aggredito accoltellato rapinato andò alla polizia e la polizia disse guarda vattene vattene altrimenti ti sbattiamo dentro quindi come si dice da noi il famoso cornuto e bastonato a Let Belli capitava spesso perché era appunto una persona di colore e la cosa peggiore che potevi dire ad un afroamericano era ti mando in Mississippi perché nel Mississippi era veramente dura passeggiare su una strada per un uomo di colore nel Mississippi poteva essere un problema poi abbiamo scoperto anche un'altra nozione importante che c'è stata girata dal nostro contatto che la chitarra acustica che Robert Johnson suonava era un'altra ma non era la sua perché gli fu rotta dalla polizia quindi capite come quanto è difficile vivere la cosa più difficile forse per i bluesman dell'epoca era vivere però Let Belli è un uomo del connubium un uomo che fa blues un uomo che fa folk un uomo che conosce altre persone importanti all'epoca in ambito di musica tra lui e Woody Guthrie si crea una fratellanza incredibile incidono moltissime cose questo non è un esempio pratico ci tengo a farvelo vedere perché è un disco importante e l'Albatross American Folk & Blues dei primissimi anni 70 tirò fuori quella che era una vera e propria collana legata al folk revival che andò molto di moda We Shall Be Free The Midnight Spatial Lucky Lucky Yonder sono tutti album che sono usciti in quel periodo nel periodo degli anni 70 del folk revival miracolosamente recensiti e scelti da uno dei più importanti etnomusicologi d'Italia che era Roberto Leidi veramente un uomo a cui andrebbe fatto un monumento lui riuscì a selezionare i vari brani che arrivavano dai 78 giri e metterli in 33 giri nei primi anni 70 hanno avuto un discreto mercato io poi ho avuto la fortuna nel 90 quando entrai nella prima radio libera ad avere in regalo uno di questi dischi e poi trovare tutti gli altri nel corso degli anni qui c'è proprio la storia c'è Bass Lewis c'è Cisco Houston che è uno dei pochi bianchi che incide insieme a Woody Gat di Led Belli e c'è anche l'armonicista a bocca Sonny Terry che ritroveremo anche negli anni 50 negli anni 60 quindi grazie al folk Revali ma poi anche questa figura di Led Belli fu in auge nuovamente Led Belli scrisse tantissime canzoni passò moltissimo tempo in penitenziario soprattutto in quello di Angola dove il governatore Jeff un testa di cazzo scusate il termine e lo faceva ogni tanto suonare per i suoi ospiti e come premio gli lanciava un pezzo di sigaro a terra questo era il governatore jeff repubblicano nel Texas quando lui era al penitenziario ascoltare una delle tante pene di cui alcune anche ingiuste quindi capite come è un attimo non è che voglio fare il difensore di questo di quello infatti sono questo un'America profondamente schifosamente inutilmente razzista negli anni 30, 40, 50, 60 e forse ancora oggi anzi tolgo il forse il razzismo è un problema che non si risolve secondo me da qui a pochi anni perché è in situ appunto in queste mentalità bagate Ledbelli utilizzava sia la tecnica del folk singer finger picking o pennata oppure utilizzava i famosi giri blues standard a tre accordi con i turn around quindi vedete questo uomo che mischia un po' tutto insieme ma fa cose importanti molto importanti i suoi brani sono stati ripresi da tantissimi artisti dai beach boys ai critters che a water revival a tanta altra gente e sono diventati dei classici americani dei classici statunitensi oltre a quelli di Woody Guthrie come This Land Is Your Land anche brani tipo Midnight Special dove si parla di una donna che deve andare da un magistrato a chiedere di scarcerare il suo marito aspetta infatti il Midnight Special ovvero lo speciale di mezzanotte con la sua ombrella sulla spalla questa signora che va a cercare di far liberare il suo marito quindi vedete che le tematiche base sono sempre quelle la libertà l'ugualità delle persone non tenendo conto della razza del colore della pelle e la voglia comunque di fare musica Led Belly è nella seconda fase non è più nell'early blues ma lui utilizza accordi veri e propri normali già a metà degli anni 40 quindi non suona Seeker Box non suona in accordatura aperta ma lui suona in accordatura standard perché era molto vicino al discorso dei folk singer per questo motivo forse utilizza queste tecniche varie che poi fortunatamente gli sono valse tutte le varie gratificazioni che sono avvenute dopo la morte in Led Belly troviamo anche dei brani in tre quarti tipo Goodnight Irene sono dei valserini che sono molto più vicini alla grammatica folk che a quella blues anzi totalmente vicini alla grammatica folk ma non a quella blues quindi capite questo uomo è forse riuscito a mettere insieme tutte queste cose e giustamente oggigiorno Addie Led Better al secolo Led Belly viene ricordato ancora oggi trovate un sacco di discorografia su Led Belly trovate album doppi tripli cd un sacco di roba trovate forse se siete fortunati anche uno di questi vinili dove poi all'interno c'è anche lo studio sui testi e c'è un bel articolo di presentazione appunto di Roberto Leidi io vi consiglio questo artista sicuramente se avete visto il video già lo conoscete e se non l'avete visto è una fortuna forse il karma questa volta è dalla vostra parte perché se non lo conoscevate adesso avete conosciuto Led Belly adesso andatelo a cercare e vedete quello che ha fatto veramente le mie parole sono inutili perché è inutile poter celebrare in maniera così grande questo uomo quando non ci sono parole per poterlo celebrare perché ha fatto veramente tanto tanto per il folk tanto per il blues e tanto per la musica in genere che ancora oggi ascoltiamo grazie a tutti voi se volete iscrivervi al canale a me fa piacere alla prossima puntata di Storie di Blues bye bye have a nice night ti ricordo il doppio appuntamento ogni 15 giorni con World Music Club e Storie di Blues il martedì sera dalle 22 Blues on Air radio show dal sito radiofm.net e nel web scopri centinaia di biografie inerenti musicisti e strumenti musicali su dariospesani.it Sous-titrage ST' 501